mius collezione autunno inverno 2013 2014 codice articolo 649 209 variante colore nero platino guardiamo nei dettagli l'articolo si tratta di un tronchetto in pelle nera con delle leggere sfumature platino troviamo un cinturino sul collo del piede impreziosito da queste micro borchie applicate la chiusura è con zip l'interno è foderato in tessuto la forma è leggermente arrotondata l'altezza del gambale è 11 centimetri mentre la circonferenza è circa 27 concludo precisando che il tacco è alto 7 centimetri e la suola è in gomma antiscivolo